Nel messaggio di oggi parleremo del mistero della Trinità. Ci sono tre persone divine uguali, eterne, che sono coinvolte nella vostra creazione e nella vostra redenzione. Da oltre 40 anni, Amazing Facts si dedica alla diffusione della parola di Dio attraverso i media. Questo programma include alcuni estratti delle migliori trasmissioni televisive. Vi invitiamo a sedervi comodi e a godervi questa edizione di Amazing Facts Presents. Nel messaggio di oggi parleremo del mistero della Trinità. La Trinità, probabilmente, è uno dei temi più profondi e sublimi da esplorare. Nella preghiera, in preparazione alla funzione, il nostro fratello ha appena detto che il pastore Doug avrebbe spiegato questo mistero. Voglio dirvi proprio ora che rimarrà un mistero anche dopo la fine del sermone. Quindi, non voglio presumere di essere in grado di svelare tutti i misteri di Dio per voi. È un mistero che scaveremo un pochino insieme. Ma ci saranno molte cose che rimarranno misteriose. È come se voi e io cercassimo di guardare l'universo con una lente di ingrandimento. Non riusciremo a vedere tutto. Nella Bibbia, quando si cerca di capire il mistero della Trinità, si procede su un terreno sacro. Probabilmente non sarebbe inappropriato che mi togliessi le scarpe in questo sermone. Mi sentirei forse bene, ma potrebbe essere una fonte di distrazione per voi. Ma è un terreno sacro. E la Bibbia è molto chiara. Non possiamo comprendere Dio. Lasciate che vi citi questo versetto. In realtà vi conviene avere una matita a portata di mano. Guarderemo moltissimo le scritture oggi e le leggerò velocemente per analizzare più testi possibili. Poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno. Come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Dio è molto più grande di quello che possiamo comprendere. Salmi 145, versetto 3. L'Eterno è grande e degno di sommalode, e la sua grandezza è imperscrutabile. Ora, sapete, se saremo salvati, e prego di esserlo, e prego che voi lo siate, è per questo che siamo qui, giusto? Per quanto viverete? Per sempre e per l'eternità. Per l'eternità. Direte mai, comprendo Dio? Quindi, se per l'eternità sappiamo che non riusciremo mai a comprendere Dio, bisogna essere Dio per comprendere Dio, allora quanto potremo comprendere in questa vita? Ma Dio vuole che sappiamo quello che ci rivela. Ma tenete a mente che è un tema enorme e non saremo in grado di illustrarlo per voi. Di nuovo, Romani 11, 33. Oh, profondità di ricchezze, di sapienza e di conoscenza di Dio. Quanto imperscrutabili sono i suoi giudizi e inesplorabili le sue vie. Inesplorabili. Giobbe, 26, 14. Ecco, questi sono solamente le frange delle sue opere. Quale debole sussurro di lui riusciamo a percepire? Ma chi potrà mai comprendere il tuono della sua potenza? In questo mondo afferriamo solo un frammento del sussurro di quello che c'è da sapere su Dio. Ma chi può comprendere il tuono? Cos'è un tuono paragonato a un sussurro? È quello che sta dicendo Giobbe. Chi lo può capire? John Wesley ha detto Portatemi un verme che sa comprendere un uomo e vi mostrerò un uomo che sa comprendere il Dio Trino. Volevo solo anticipare che non volevo avere la pretesa di rivelarvi il mistero di Dio della Trinità ma guardiamo alcune cose che sono rivelate nella Bibbia e cerchiamo di capire al meglio. Ora, è un tema importante per varie ragioni. Sapete che sono state combattute guerre per questo tema? È successo... Alcune nazioni sono state eliminate per disaccordi che riguardavano la fede in questo tema. Alcuni potrebbero dire Doug sta insegnando una dottrina che non è nemmeno presente nella Bibbia. È vero, non c'è la parola Trinità nella Bibbia. La parola Trinità vuole semplicemente dire tre un triciclo quante ruote ha? Tre, tre entità. È una parola che usiamo per descrivere le tre entità della divinità. La Bibbia usa la parola Divinità. Non c'è nulla di male nella parola Trinità. Non c'è la parola Rapimento nella Bibbia. Non c'è la parola Bibbia nella Bibbia. Quindi non possiamo parlare della Bibbia perché la parola Bibbia non è nella Bibbia? Ci sono tantissime parole che non troviamo di per sé. Millennio non si trova nella Bibbia. Ma se parliamo della dottrina del millennio parliamo del periodo di mille anni che troviamo in Apocalisse capitolo 20. Quindi ci sono moltissimi termini che usiamo termini teologici per descrivere varie dottrine. Questa si chiama la dottrina della Trinità le tre entità che compongono il Dio della Bibbia. Quindi questo è davvero quello di cui parleremo. Non c'è alcun conflitto a riguardo. Lasciate che vi faccio qualche esempio tratto dalla Bibbia. Matteo 28 Alcune delle ultime parole di Gesù. Dopo aver inviato i suoi discepoli nel mondo in Matteo 28,19 dice Andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ora, è vero che nel Nuovo Testamento nel Libro degli Atti quando i discepoli furono inviati dice che andarono e battezzarono nel nome del Signore o nel nome del Signore Gesù o nel nome di Gesù ma Gesù ha detto di certo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Questo mi dice che a volte le parole esatte del battesimo non sono il grosso problema. Si è battezzati nel nome del Dio della Bibbia. Gesù ha detto Padre, Figlio e Spirito Santo e per me va benissimo. Amen? Ora, ecco la domanda. Dio può essere accurato nel dire la Bibbia è accurata nel dire i cristiani hanno ragione a dire c'è un solo Dio e allo stesso tempo dire uno non significa sempre uno? Questa è la cosa da capire. Non è un linguaggio ambiguo sono le scritture. Vi cito alcuni versi. Per esempio, proprio all'inizio Genesi 1, 26 Poi Dio disse facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza. Sentite di più di una persona? La parola ebraica usata per Dio è Elohim. La parola Elohim è plurale. È come noi. Ci. Ogni volta che lo dico se dico noi andiamo al negozio Karen mi chiede con chi vai? Se dicessi parlo di me stesso direste cos'ha che non va? Parla di se stesso dicendo noi. È diventato schizofrenico? Ha problemi di personalità multipla? Quindi, quando Dio dice così non lo fa perché è confuso. La parola principale usata per Dio più di 2700 volte nella Bibbia è Elohim al plurale. C'è un'altra parola El che è singolare. Ma gli scrittori ispirati hanno scelto di usare Elohim dieci volte più di El. Questo vale per tutto per gran parte dell'Antico Testamento. È un plurale. Dio si comunica a noi come un Dio plurale perché è fatto di queste tre persone. È un mistero e potrebbe continuare a essere un mistero una volta che avremo finito. E poi ovviamente alcune persone mettono in dubbio questo versetto ma è nella Bibbia e ci credo. Primo Giovanni 5,7 Poiché tre sono quelli che rendono testimonianza nel cielo il Padre Dio Padre la parola Gesù è la parola incarnata e lo Spirito Santo e questi tre sono uno. Difficile da equivocare. Le tre sono una. Giovanni 17,20 Questo credo sia il migliore esempio. È una speciale preghiera di intercessione di Gesù. Giovanni 17,20 leggerò anche il versetto 21. Orio non prego solo per questi ma anche per quelli che crederanno in me per mezzo della loro parola. Per cosa prega? Affinché siano tutti uno. Prega per i dodici apostoli e prega che possano essere uno. Come? Come tu o Padre sei in me e io in te. Notate Dio è in Gesù e Gesù è in Dio. Verrà fuori dopo. Siano anch'essi uno. Di nuovo in noi affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Quindi la nazione che è una gli apostoli sono uno la coppia è una ma sappiamo che ci sono tante persone coinvolte. Non è incoerente dire che c'è un Dio ma per i cristiani un Dio è composto da tre persone. Ora parlerò un po' del fatto che Gesù è Dio e lo spirito è Dio. Non mi sentirete parlare molto di Dio Padre sapete perché? Non ho mai trovato nessuno che lo vedesse come un problema. La maggioranza dei cristiani è d'accordo sul fatto che Dio Padre sia Dio che è il Dio supremo che è sempre stato anche se ci sono alcuni che in realtà credono che il Dio che ha fatto l'universo prima fosse un Dio inferiore ma che poi si è fatto strada ed è diventato un Dio più importante e che ci sono altri dei sopra di Lui e che se si potesse andare lontano nell'universo si troverebbero. Il problema è che questo implicherebbe che Dio stia imparando e come è possibile conoscere tutto e imparare ancora? Chiedete a un adolescente al liceo. Quindi Dio ovviamente se sa tutto e se è onnipotente come potrebbe essere più potente Dio onnipotente ma la maggioranza della gente è d'accordo sul fatto che Dio è il più grande ma fanno fatica a capire quale sia il ruolo di Gesù e qual è il ruolo dello spirito. Una visione dell'arianesimo è che lo spirito non è una persona non solo è stato creato da Gesù non è una persona ma una forza una sorta di forza impersonale attraverso cui opera Dio. Quindi diamo un'occhiata ad alcuni di questi concetti prima di tutto Gesù è pienamente Dio? Scopriamo cosa dice la Bibbia Matteo 1.23 il quale sarà chiamato Emanuele che interpretato vuol dire Dio con noi l'incarnazione è Dio 100% Dio che diventa uomo è un mistero c'è un mistero della divinità nella Bibbia che è come Dio abbia fatto a diventare uomo c'è il mistero dell'iniquità che riguarda come una creatura il diavolo abbia voluto diventare Dio come ha potuto una creatura pensare voglio detronizzare il creatore è un pensiero pazzo per me è un mistero come il diavolo possa pensare di intraprendere una guerra è una creatura contro il suo creatore come può qualcosa che ha un'esistenza limitata intraprendere una guerra e dire voglio prendere il posto di colui che esiste da solo ed è eterno ha senso ma è quello che ha fatto quindi c'è un mistero di Dio Dio che si abbassa per diventare uomo è un mistero dell'iniquità la creatura che cerca di esaltarsi e diventare Dio cosa ha detto Satana ad Adamo ed Eva ascoltatemi sarete come Dio perché l'ha detto era quello che voleva spesso le persone impongono agli altri i propri desideri ebrei 1.8 Gesù è Dio del figlio invece dice oh Dio il tuo trono è aspettate un attimo ebrei 1.8 Dio padre dice al figlio oh Dio il tuo trono è Dio padre dice oh figlio Dio il tuo trono è per i secoli dei secoli quindi come chiama Dio il figlio Dio per i secoli dei secoli lo scettro del tuo regno è scettro di giustizia quando Gesù è risorto dai morti ricordate che la prima settimana che apparve Tommaso non lo vide gli disse non crederò finché non vedrò il segno nelle sue mani e la cicatrice nel suo fianco poi Gesù apparve la settimana successiva e disse Tommaso hai creduto perché hai veduto Tommaso cadde a terra e cosa disse mio Signore e mio Dio a proposito è Giovanni 20 versetti 26 fino a 29 e Gesù gli disse no 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 non dire così non esagerare o lo accettò chiamò Gesù mio Signore e mio Dio perché è vero ora alcune definizioni in breve la Bibbia dice che dobbiamo adorare un solo Dio è uno dei comandamenti anche Gesù l'ha citato a Satana Matteo 28 dobbiamo adorare Gesù e mentre andavano per dirlo ai discepoli ecco Gesù venne loro incontro e disse salve significa adorarlo allora esse accostatesi gli strinsero i piedi e lo adorarono ma la Bibbia dice solo di adorare Dio ebrei 1.6 dobbiamo adorare solo Dio ma dice tutti gli angeli adorino Gesù è in ebrei 1.6 Apocalisse 7.11 spero ve lo ricordiate è il versetto importante dell'Apocalisse 7.11 e tutti gli angeli stavano in piedi intorno al trono e agli anziani e ai quattro esseri viventi e si prostrarono sulle loro facce davanti al trono e adorarono Dio gli angeli adorano Dio e gli angeli adorano Gesù se Gesù è Dio non c'è problema potete adorare solo Lui potete solo adorare Dio ma se adorano Gesù allora deve essere Dio la Bibbia dice che Dio ha creato avete letto il primo versetto della Bibbia nel principio Dio creò i cieli e la terra ok? chi è questo Dio che ha creato? primo Giovanni no scusate Giovanni capitolo 1 versetto 1 nel principio era la parola e la parola era presso Dio e la parola era Dio chi è quella parola? la parola si è fatta carne e ha dimorato presso di noi è Gesù vero? egli la parola era nel principio con Dio tutte le cose è molto chiaro in greco tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui e senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta significa che Gesù non è stato fatto che è sempre esistito ha detto sono l'alfa e l'omega che significa fino a dove puoi arrivare l'inizio e la fine fin dove puoi arrivare in quella direzione finché puoi arrivare dall'eternità e per l'eternità sono Dio è sempre stato lì Ebrei 1 versetti 1-2 Dio dopo aver anticamente parlato molte volte in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo figlio che Egli ha costituito erede di tutte le cose per mezzo del quale ha anche fatto l'universo in principio Dio ha creato Gesù è Dio Efesini 3-9 e di manifestare a tutti la partecipazione del mistero che dalle più antiche età è stato nascosto in Dio il quale ha creato tutte le cose per mezzo di Gesù Cristo Gesù è Dio Dio ha fatto tutte le cose la Bibbia dice che c'è solo un salvatore e che Dio è il nostro salvatore Isaia 43 un salvatore 43-11 Isaia io io sono l'eterno e all'infuori di me non c'è salvatore ma cosa dice la Bibbia Giuda 25 all'unico Dio sapiente il nostro salvatore quindi un solo salvatore Dio è il nostro salvatore in Giuda 25 poi ci sono molti versetti nel Nuovo Testamento incluso questo primo Giovanni 4-14 dice che Gesù è il nostro salvatore e noi stessi abbiamo visto e testimoniato che il Padre ha mandato il Figlio per essere il salvatore del mondo ha senso? c'è solo un salvatore Dio è il nostro salvatore e la Bibbia dice che Gesù è il nostro salvatore l'unico modo per cui tutto questo abbia senso è che Gesù è Dio capite cosa intendo? quindi Gesù afferma di essere uguale a Dio? controlliamo Giovanni 5-17 e versetto 18 ma Gesù rispose loro il Padre mio opera fino ad ora e anch'io opero per questo i Giudei cercavano ancora più di ucciderlo perché non solo violava il sabato ma addirittura chiamava Dio suo Padre facendosi uguale a Dio Gesù sapeva quello che diceva e gli ebrei sapevano perché volevano ucciderlo di nuovo Giovanni 10-30 io e il Padre siamo uno abbiamo di nuovo l'idea che Dio possa essere uno e che possa essere più di una persona perciò i Giudei raccolsero di nuovo delle pietre per lapidarlo perché sapevano cosa intendeva dicendo così Giovanni 14-9 Gesù gli disse da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto Filippo chi ha visto me ha visto il Padre come mai dici mostraci il Padre dice semplicemente siamo la stessa cosa ora su una cosa tutti si impantanano se parlate con un ateo di Dio o con un agnostico vi dicono ok so dirti da dove deriva l'universo da dove viene Dio direi beh non so da dove venga Dio ma dimmi tu da dove viene l'universo perché quello che si sa dire è che il mondo viene dal sistema solare quando si è formato e il sole è esploso e ha formato questi pianeti sparsi per l'universo da dove viene il sole beh si dirà il sole viene da una supernova quando c'è stata un'esplosione e tutti quei soli hanno iniziato a vorticare nello spazio io ribatto ok da dove è venuto tutto questo beh quelle particelle di gas nebuloso si sono scontrate e sono esplose e c'è stato il Big Bang ok allora chiedo beh da dove viene quella roba quel materiale combustibile che ha causato il Big Bang e alla fine evoluzionisti atei agnostici diranno tutti beh è un mistero qualcosa che è sempre esistito quindi sono al vostro stesso punto ma la differenza è che il nostro qualcosa che è sempre esistito è intelligente e potente il loro è solo un grosso incidente potete descrivere tutto quello che sta intorno a voi come risultato come un'intelligenza con uno scopo come semplicemente un grosso incidente ora possiamo tutti andare a casa non c'è nessuno scopo nella vita io ho scelto di credere che ci sia uno scopo vedo troppe cose che sembrano riflettere un'intelligenza quindi Gesù è sempre esistito Giovanni 17 5 ora dunque oh padre glorificami presso di te della gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse vedete Gesù ha messo da parte la gloria la perfetta uguaglianza che condivideva col padre prima che il mondo fosse è venuto a vivere in mezzo a noi poi è stato nuovamente ricevuto nella gloria ed è di nuovo glorificato alla destra del padre è Dio al 100% quindi si spera che abbiate capito che Gesù è Dio e non ho affrontato tutte le prove cosa mi dite dello Spirito Santo? molte persone dicono allora se Gesù è Dio non abbiamo problemi a credere che lo Spirito Santo sia Dio ma non è una persona è la forza di Dio che Dio usa io penso che lo Spirito Santo sia Dio non è solo un veicolo impersonale perché Dio ha detto così prima di tutto lo Spirito Santo è Dio atti 5,3,4 ma Pietro disse Anania ricordate quando Anania e Saffira mentirono? perché a Satana riempito il tuo cuore per farti mentire allo Spirito Santo? tu non hai mentito agli uomini ma a Dio quando si mente allo Spirito Santo si mente a Dio l'Eterno disse lo Spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo Genesi 6,3 Dio lo Spirito vi ho parlato dei 7 Spiriti attorno al Trono di Dio dice che lo Spirito ci guida e ci indirizza non è una forza impersonale che ci guida e ci indirizza ho un GPS in macchina quanti di voi hanno un GPS sul telefono o in macchina si usa per trovare la strada quanti di voi si sono sentiti in colpa con un GPS metto una destinazione nella macchina magari voglio andare a trovare qualcuno sulla strada trovo un negozio vedo qualcosa che devo fare e dico ah non sapevo che ci fosse qui questo negozio giro di qui e il GPS dice gira cambia strada reindirizzamento gira qui a sinistra e penso mi spiace ti ho offeso il mio ha una voce da donna e sapete penso sempre a mia madre gira qui ok non voglio urtare i tuoi sentimenti e quindi giro volevo andare al negozio ma mi hai detto di girare è questo che intendo non mi interessa quello che dice è un computer è solo una forza giusto? non ferirò i suoi sentimenti non l'ho mai sentito dire dai per favore gira qui ferirai i miei sentimenti se non giri piangerò lacrime da transistor dai miei circuiti se non giri gli interessa? no ma allo spirito santo importa? se è solo un computer se è solo una forza impersonale non si può contristare ma la Bibbia dice che lo spirito si contrista in realtà Gesù ha detto in Giovanni 16-13 ma quando verrà lui lo spirito di verità egli vi guiderà in ogni verità capisco che anni fa prima del GPS quando gli arabi attraversavano alcuni di quei vasti deserti dell'Arabia Saudita qualche volta affrontavano tempeste di sabbia in cui non potevano nemmeno vedere il sole per capire dove era l'est e l'ovest molte carovane avevano degli uccelli con sé dei piccioni viaggiatori erano legati con un filo e li rilasciavano e volavano sempre verso casa tornavano sempre a casa in linea retta e li tenevano a disposizione per capire da che parte andare lo spirito santo ci conduce e ci guida qualche volta possiamo avere delle esitazioni nel cuore ma non vi condurrà mai in modo contrario alla parola perché lo spirito santo è tutt'uno con Gesù che è la parola non saranno mai in conflitto l'uno con l'altro ho incontrato persone che mi hanno detto so che la bibbia dice così ma lo spirito mi dice come se fosse qualcosa di diverso o una informazione nuova lo spirito di Dio non sarà mai in conflitto con la parola di Dio perché è lo spirito santo che ha ispirato l'uomo a scrivere quello che ha scritto vero? uomini santi hanno scritto ispirati dallo spirito santo si dice che lo spirito santo li ha guidati sapete che penso che ci siano 15 volte in cui Gesù si è riferito allo spirito santo come a egli poteva usare una forma impersonale perché ha detto egli è stata una parola scelta apposta la bibbia dice che lo spirito santo dà conforto se lo spirito santo è solo un'energia da chi otteniamo conforto? sapete abbracciando un palo della luce? non vi darà conforto è solo un'energia senza personalità si ottiene conforto da una persona la bibbia dice che lo spirito santo condanna ora credo che la più grossa condanna che sentivo a volte era lo sguardo di mia nonna mi guardava soltanto è una cosa che viene da una persona Giovanni 16 8 e quando sarà venuto egli notate egli convincerà il mondo di peccato di giustizia e di giudizio e se lo spirito è solo una forza guardate qual è il peccato più grande qual è il peccato che non può essere perdonato? blasfemia contro lo spirito santo Matteo 12 31 32 perciò io vi dico ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini persino se bestemmiate contro il figlio si dice che verrà perdonata ma la bestemmia contro lo spirito non sarà loro perdonata né in questa né nella prossima vita lo spirito santo si contrista l'ho già detto Efesini 4 30 e non contristate lo spirito santo di Dio col quale siete stati sigillati è una forza reale quindi la Bibbia è molto chiara sul fatto che c'è una trinità c'è un padre un figlio e uno spirito santo non è un Dio che cambia maschera non è un Dio che ha deciso di creare divinità più piccole in Gesù e nello spirito ci sono tre persone divine uguali eterne che sono coinvolte nella vostra creazione e nella vostra redenzione non è solo che Gesù mi ama Gesù e il Padre vi amano Dio Padre ha amato così tanto il mondo da mandare suo figlio ed è stato un sacrificio di tutti e tre a salvarvi e questo dovrebbe dirci qualcosa su quanto valiamo